Facenda, facenda in colluttazione, allora facenda una partita è partita non tanto bene i primi due tempi E poi invece che è successo? È successo che siamo la solita squadra che si emoziona, fatta di qualche vecchio, di esperienza e di tanti giovani che non hanno mai provato queste situazioni Siamo partiti come sempre, contratti, poi ci siamo ritrovati e siamo partiti Partita difficile, che però non ci ha fatto fare niente ancora Abbiamo vinto una partita, siamo neanche a metà dell'opera Adesso andiamo a Bologna per chiudere la pratica Senza paura, sperando che facciano tanti pullman da Sant'Elpidio che vogliamo chiuderla subito Siamo più forti, lo dobbiamo solo dimostrare, dobbiamo credere in noi stessi Ovviamente San Lazzaro è una bellissima squadra Solo a noi sta a giocare nella maniera giusta per fare che noi vinciamo Ok, in bocca al lupo per la prossima Crepi Grazie Grazie a tutti.